Ad Expo Levante, la fiera del tempo libero in corso a Bari, le motociclette sono tra le protagoniste, non solo con le novità, gli accessori e l'abbigliamento, ma anche come medicina complementare nel campo delle disabilità. Parliamo della mototerapia, attività sociale nate nel 2008, che vede impegnati campioni di motocross. In fiera eseguite attività, offerte gratuitamente agli utenti, grazie all'impegno di Alvaro Dalfarra, campione nazionale di snowboard e pilota di freestyle motocross, e il suo team. La mototerapia consiste nel far salire in sella a moto da cross o quad, guidate da piloti professionisti, tutti coloro che vivono qualsiasi condizione di disabilità. I ragazzi sono all'interno dell'area, quindi non sono spettatori come di solito il pubblico al di fuori della nostra area, ma sono dentro, con noi, sono parte dello spettacolo e loro si sentono tali ed è giusto così. Dopodiché, una volta fatto lo spettacolo, ci attrezziamo e carichiamo ogni ragazzo e gli facciamo fare un giro con le moto, con i quad, con i nostri mezzi. Questo è un messaggio veramente importante, è riconosciuta realmente come terapia medica, perché i ragazzi che riescono a fare questa attività con noi più spesso hanno grossi benefici appunto a livello medico e di vita. Diminuiscono i farmaci, sono meno aggressivi o hanno meno problematiche proprio. Credo che ognuno di noi abbia una disabilità, io ce l'ho, Francesco ce l'ha, tutti noi ce l'abbiamo, c'è qualcosa nella nostra vita che non funziona al 100%, probabilmente le persone che abbiamo invitato ce l'hanno, più visibile, tutto là.